Vincenzo De Luca torna a polemizzare con il Governo nazionale. Dopo il Premier Draghi e il Ministro della Pubblica Istruzione Bianchi, questa volta il botte e risposta è con l'inquilino della cultura Dario Franceschini. All'origine dello scontro istituzionale, la feroce ironia con la quale il Presidente della Giunta regionale aveva criticato la funzionaria del Ministero, che aveva bocciato il piano casa e la legge sul paesaggio, varata da Palazzo Santa Lucia. Con le centinaia di dottoresse Cipollone che noi abbiamo nei vari ministeri in Italia, saremo in grado di realizzare il PSRR. Al massimo potremo farci un brodino vegetale. Parole alle quali il Ministro Franceschini aveva replicato con una nota. De Luca dovrebbe usare pareri giuridici anziché battute offensive maschiliste di cui farebbe bene scusarsi. La stoccata all'indirizzo del Presidente della Campania, il quale non ha mancato di affidare ai social una replica piccata. Nessuno ha offeso nessuno, trovo di una ipocrisia insopportabile l'abitudine a nascondersi dietro il politicamente corretto per non affrontare i problemi di merito, i concetti messi nero su bianco da De Luca, che ha parlato di battuta innocente e di maschilismo inventato. Mi aspetto, ha concluso il Governatore, che Franceschini chieda scusa ai tanti disoccupati, alla povera gente, nel momento in cui il soprintendente del San Carlo, scelto dal Ministero, decide vergognosi e immotivati aumenti di stipendio.